Fere, dimmi, vieni, andiamo alla giostra Giostra? Sì, Fere Ma vuol dire giostra? La nostra giostra Da quanto in qua? Oh mio Dio Da quanto in qua abbiamo la giostra? L'ho costruita Non l'hai costruita, ovviamente non l'hai fatta tu Si vede lontano un milione, ma è fantastica, si può provare Sì, certo, Fere, certo, vai Vieni insieme, vieni, sali, riesco a salire al volo Oh 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 Che poi la cosa più bella È che va a propulsori Una ruota panoramica Che va a propulsori, è la prima ruota panoramica Che va a propulsori, è la cosa più bella del mondo Come stai a fare? Siamo un po' troppo vicini E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stefano, che stai chiamando Scrap Mechanic E siamo di nuovo qui su Scrap Ovviamente questo gioco vi sta piacendo Davvero, davvero tanto E noi siamo felicissimi di trovare sempre costruzioni migliori Da farvi vedere Come potrebbe non piacere un gioco come questo Ma dai, c'è bellissimo È finita qua, guarda, vi diciamo soltanto che sono tipo alle 7 e un quarto Abbiamo editato e registrato video tutto il giorno E lo stesso avevamo voglia di fare questo video Perché è troppo, troppo bello Allora, oggi ci hanno proposto una cosa da costruire Che finalmente è alla nostra portata Ok, mi sembra giusto Allora, oggi è tantissimo Che ci avete proposto qualcosa di molto semplice I consolini che hanno capito la nostra scarsità nel costruire Però prima comunque volevo provare qualcosina di simpatico Perché la scorsa volta abbiamo provato poche robe Quindi volevo recuperare un po' E poi una cosa che ci hanno chiesto è appunto una cosa che possiamo provare Quindi diciamo che si collegano alle due cose Oddio, mi stai tripando Non capisco nulla Prima di tutto scendi Ok, ok, mi sembra giusto Allora, allora, aspetta che la spengo Ogni tanto mi incastro Ok, ecco Io vorrei lasciare tutto in questo mondo Sarebbe bellissimo Però ci fa laggare Ascolta, facciamo così Dimmi Questa non la azioniamo nel mondo ma la conserviamo Nel senso che ogni tanto la tiriamo pure Ma certo che Facciamo un giretto Tutto quello che per ora abbiamo messo è conservato Quello è ovvio Ma perché scatta tutto Eh, lo so Lo so, lo so Però non pensiamoci Allora Lo so I consolini Allora, per intanto ti dico quello che dobbiamo costruire Ok Te lo leggo proprio Create la torre dei consolini Ok Quindi sarà una torre alta Quindi teoricamente un rettangolo verso l'alto Ferre non possiamo sbagliare Non può essere però una torre così triste Dobbiamo cercare di farla Ovviamente la cerchiamo di arredare Ferrebellina Però in generale una torre è più facile di una casa E la volevo fare alta in uno dei confini Diciamo della nostra zona Perché così serve come vedetta Per vedere tutto quello che c'è intorno Se vuole venire qualche nemico strano ad ucciderci Ci stavo già pensando E anche l'avevo pensata più come torre di vedetta Ok, perfetto E su questo siamo d'accordo Però un'altra cosa che ci hanno chiesto Ce ne sono tantissime fantastiche che faremo anche nei prossimi video Però una cosa fantastica che ci hanno chiesto è la discoteca Ok Oh mio Dio A riguardo io ho una costruzione Molto bella La facciamo vedere adesso o dopo? Quindi cosa vuoi dire? Adesso Adesso Ok, ok, sono pronta Sì, sì, sì Vieni qua È una cosa che fa ridere? Sì, sì Non puoi toccarla Ok Come non posso toccarla? Partiamo così Allora, aspetta un attimino che la butto giù Ok, vieni dalla mia parte Aspetta un attimino Allora Sì Ho problemi seri di lag Lo sappiamo Lo sappiamo Davvero tanti problemi seri Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Che bella Ok, allora Dammi un attimo Tu stai qua fuori Ok, sto ferma Più o meno Se la lag me lo consente Dovrebbe essere questo pulsante Ok, mi ha dato altri pulsanti da premere Premili tutti Quindi Questo Dimmi se succede qualcosa No, è tutto fermo al momento Aspetta, sì Sì, sopra Ok Guarda Oh mio Dio Ma come fanno a inventare queste cose? Oh mio Dio No, vabbè Guarda dentro Guarda dentro Aspetta, non è ancora finita Fere Chiaramente non è ancora finita Guarda E possiamo ballarci? Credo di sì Credo di sì Aspetta che devo controllare se c'è la musica La musica c'è Però non mi fa impazzire Cioè è più d'ambiente Io vorrei qualcosa di più vivace Cambia musica Probabilmente si può cambiare Lo so ma dovrei trovare come Quindi Dobbiamo continuare a frugare questi tasti E non credo che questo sia quello giusto Aspetta, vediamo Cosa sto azionando? L'hai visto? Guarda Faremo così Che succede se io premo questa tasta? Aspetta che faccio dall'altra Ma come fai? Premo questo rosso Lo vedi questo tastone rosso? Com'è per fare il ritmo? Vai cerchiamo di fare un po' di ritmo Non penso funzioni No, no Qui c'è la console da DJ che poi oltretutto guarda com'è fatta Sono due gomme di auto e un motore Aspetta Geniale Geniale Però qui ovviamente dove si aziona la musica scusa Quindi premiamo tutti questi tasti Che succede? Le luci? Eh, c'è notte le luci Non la musica Guarda che meraviglia Questa però Sì che è una vera discoteca Una vera discoteca Non è una discoteca Se non ha le luci così Mi sembra giusto Comunque stiamo andando bene Abbiamo le luci Abbiamo la musica Anche se non ci piace Quindi dobbiamo solo trovare il modo di trovare una musica un po' più energetica Esatto Esatto Io vorrei cambiare la canzone Questo tasto chiude ovviamente questa porta Sì non fa altro Ok Sai cosa ti dico Fere? Secondo me addirittura questo si può valutare di tenerlo da qualche parte Perché non ci fa allagare troppo Ho notato Questo non fa allagare l'interno È fatto bene in qualche modo strano ma non ci fa allagare troppo Quindi allora per ora lo lasciamo qua Ovviamente andrà spostato assolutamente perché non è il punto giusto di sicuro Però mi sembra giusto avere una discoteca nello stravellaggio medievale Cioè nel medioevo c'era Sicuramente Poi soprattutto fatte così Proprio uguali 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 Vabbè perché noi siamo un po' futuristi I consolini vogliono festeggiare Cioè hanno la piscina con la vasca bellissima Hanno la Ferrari Cosa non gli vuoi dare? La discoteca? Mi sembra logico Mi sembra proprio logico Che ce la devono avere Allora io direi che iniziamo a scegliere dove fare la torre E iniziamo un po' a farla Dopodiché ti faccio vedere un'altra creazione totalmente epica Ok Dove vorresti fare la torre? Allora secondo me guarda 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 Io ho un'idea Stavo già guardando Ok Secondo me ho questa collinetta qua Ok Più o meno vedi qui dietro Qua c'è un po' di pianuretta Tu inizi a fare la torre gigante proprio dietro casa loro Non è male Ok Altrimenti Oppure anche qua Anche qua mi piace A me piace molto qui Non tutto su nella parte più alta Ma in questo spiazzetto qua Sì e infatti era la seconda decisione Però Sì Abbiamo totalmente cambiato zona perché lì c'erano gli alberi Rischiavamo che un albero sarebbe entrato nella nostra fantastica torre Esatto La torre con solini non può avere alberi dietro sopra o non so dove Allora questa è la forma Questa è la posizione Se pensate è fantastica Perché è una collinetta Sta in un confine del villaggio Quindi è perfetta per essere qua Dobbiamo alzarla all'infinito Quindi adesso inizierà la parte Molto divertente Sì assolutamente sì Che fai fare mettendo un solo blocchetto? Sto cercando di fare un ingresso Cioè che dici? Ok sì sì Pensa all'ingresso Io inizio ad alzare Più o meno No è storto Quanti blocchi l'ha fatta scusami? Quanti blocchi è? Boh Boh A me preoccupa soltanto il metodo per costruire verso l'alto Perché in effetti non ho idea di come dovremmo fare Per ora Praticamente devi fare così guarda Ah ah Ho il metodo Ah l'hai già fatto Sì ma poi Ah ok Eh beh sì così la devi fare Bene C'è molta scelta Ha senso Allora muro altissimo Boom Guarda già che bella torre che ti ho fatto Sì 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 Tu pensi alla scala? Eh sì stavo pensando perché Allora non credo che riusciremmo a finirla tutta in questo episodio Però no Fere 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 Non essere negativa Inizia a fare la scala C'è davvero tanto da fare La cosa più difficile è la scala Perché la struttura te la faccio in 5 minuti È più o meno più o meno La scala Non è diciamo semplicissima Perché la devi fare tutta blocchetti La scala è molto difficile Esatto Non esistono scalette Sto pensando di che blocco la facciamo Perché non voglio usare lo stesso E se usi il cobblestone normale per quello? No volevo cambiare proprio colore Fere Soffro di vertigini Che problemi stai avendo? Ho paura Stai distruggendo tutto Che combina Steph Che combina senza la mia supervisione Ho messo dei cobblestone per sbaglio Fere Cosa stai combinando? Sono in altissimo Ti vedo Allora Fere aveva pensato di fare le scale in diamanti Per i consolini Ma erano abbastanza brutte E io Allora consolini Vi volevo fare le scale strafighe Con i blocchi di diamante Steph Non sono brutte E allora me le sta facendo tutte Guarda che tu hai detto che sono brutte No tu le hai detto Quindi se vi piacevano le scale in diamanti Colpa sua Io volevo mettere Gli sfarzi all'interno della torre Il lusso E tu non l'hai voluto Che criminale Tutto criminale Parole Allora La forma Ci siamo E ci sono pure le scale Guardate È abbastanza alta Secondo me Non è male per nulla E dentro ci sono Tutte le scale Fate da fare Che sono molto carine Si riuscite a finirle Si ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Guardate quante sono Quante sono le scale Mamma mia che fatica Salire alla torre dei consolini È faticosissimo Eccoci qua in alto Guarda Adesso puoi salire in alto Vedere tutto Il resto lo faccio col tetto normale Come blocco O metto quello che hai messo tu? Secondo me è normale Per spezzare Lasciamo solo le scale Con questo blocco Sono d'accordo Mi piace Guarda la discoteca da qui Guardala Guardala che ancora illumina Ci sta salutando Fere Salutala Allora Bellissima Poi la cosa bella è che si vede tutto Conta quando sarà il villaggio un po' più grande Qua riusciremo a vedere tutto Beh è l'obiettivo di una torre Fere Bellissimo Fino a prova contraria A quello serve No Allora poi ti dico già Aspetta 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 Che sta succedendo Qua sbattiamo la testa Quindi devo togliere uno da qui così Eh lo so Devi stare attento alla capoccia Ancora uno Ancora uno in meno Occupiamo un sacco di spazio Me ne sono accorta Guarda così Ok Va bene Sì 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 Perfetto Perfettissimo Sono andato lontanissimo per farlo vedere Secondo me dà un bel effetto Vieni a vedere anche tu Fere Sì Vero? Sì sì Non è male Non è male È da decorare Da rifinire un pochettino Ma non è male Esatto Allora guarda cosa ho provato a mettere per adesso C'è il cane da guardia qua Perché mi sembrava fondamentale Molto pauroso Nella torre dei consolini Mettere un cane che difende tutto Molto pauroso Questi due simboli che sono dei lupi Che fanno capire che la torre dei consolini è un posto pericoloso Ti piacciono? Sì molto Secondo me si potrebbero anche cambiare di colore Però non sono sicuro Quindi adesso ci provo Di che colore li vorresti? Secondo me è rosso Sì sì Ci stanno Ci stanno Ma qua perché è bucata la torre Scusami Opla Dove Fere? Qua Dove? Qui sopra Ma non lo vedi? Ah Il buco gigante che c'era Sì mi ero dimenticata Comunque secondo me andrebbero messe anche delle finestre Giusto per renderla un po' più Sì però Tra un video e l'altro Tra un video e l'altro quello lo facciamo Allora questi cosettini mi piacciono molto 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 Anche a me Poi del poco arredamento che avrebbe senso nel Medioevo Secondo me ci sono queste Sì Vero? Sì sì Che dobbiamo capire bene dove metterle Ti faccio vedere tutto quello che ho E poi vediamo Queste palle così Che potrebbero sembrare Le palle di un cannone Di un cannone Sì Che potrebbero andar bene Ci stanno Poi ho provato a vedere questa pianta Ma mi sembra Un po' troppo grande Sì No fluttano Ma dai davvero? Sì Oddio non si No lasciale Lasciale Non si nota così tanto In mezzo alla scala niente Perché non abbiamo oggetti abbastanza belli Da poter mettere qua intorno Eh ma te l'ho detto Io volevo tipo Allora innanzitutto delle finestre Magari ogni volta che c'è questa sorta di pieno e rotolo Mettere delle belle Delle belle finestre In tutti i due lati Esatto Ok E poi magari non so Magari anche qualche quadro Qualcosa Non so Consolini Di sicuro commenti Consolini Esatto Comunque tra un video e l'altro qualcosa facciamo Cerchiamo anche un bel bond Ovviamente lo dico La Ferrari nella torre non ci sta bene Quindi proponete cose medievali Perché poi non si sa mai che vogliono Da doppia Ferrari anche nella torre Eh non si sa Una ovunque Ogni cosa che per loro mettono una Ferrari Ci starebbe benissimo Certo Fa la sua figura Mi piace Non è stupenda No se la pensi con pure delle finestre Secondo me diventa davvero figa Sono soddisfatto Dai comunque direi di formarci così Mi raccomando con i commenti Sia idee e cose carine per migliorare quella torre Sia la prossima cosa che volete costruire Ho letto in tanti Un ristorante di consolini Che è un'ottima idea Ci può stare Si potrebbe provare a fare qualcosa Quindi potrebbe essere quella l'idea Vediamo se ci proponete qualcos'altro In ogni caso Tanti 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 commenti Noi cercheremo anche altre cose da provare Fate da qualcun altro E ci fermiamo così Bene che se vi siete Ciaci E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao